Mal di gola, febbre frequente, quella tosse che non se ne va, acistiti ricorrenti. A volte l'antibiotico sembra l'unica soluzione possibile. Eppure i dati parlano chiaro. In Italia abbiamo l'antibiotico facile rispetto al resto d'Europa. Il risultato sono sempre meno efficaci su di noi per quel preciso disturbo, ma soprattutto provocano una resistenza nei batteri che si evolvono e mutano. Che gli italiani abusino dei farmaci e degli antibiotici in particolare lo dicono i numeri dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che registra in tre regioni del sud, tra cui la Puglia, i consumi più alti e preoccupanti. Puglia, Campania e Sicilia, messe insieme, determinano quasi il 60% di tutto l'eccesso di consumi nel nostro paese, rileva l'AIFA, il che, tradotto in soldoni, equivale ad una spesa evitabile che supera i 400 milioni di euro. Il 44% dei cittadini riceve almeno una prescrizione di antibiotico l'anno, percentuale che sale per bambini, 53%, e anziani, 50%. Il 15% degli over 65 riceve addirittura più di 6 prescrizioni di antibiotici l'anno. Secondo i calcoli dell'AIFA, a livello di singola regione, il risparmio ottenibile, razionalizzando l'uso di antibiotici, inciderebbe considerevolmente sul valore dello sfondamento della loro spesa, in Puglia per il 43%. La crescita dei consumi legata ad un uso inappropriato degli antibiotici è una delle principali cause dello sviluppo dell'antibiotico resistenza, un fenomeno che costituisce in tutto il mondo un'emergenza di salute pubblica. In Italia si registra un uso elevato di alcune classi di antibiotici in particolare, come i chinoloni e le cefalosporine, che andrebbero riservate solo alla cura di patologie particolarmente gravi.